Ciao sono Alvaro, ma chiamatemi pure Alvin Ciao ragazzi e benvenuti a una nuova puntata di Motibar Bene Quale sarà la canzone di Oggi Allora, fammi pensare Vabbè dai, ascoltiamola un attimo La vede riconosciuta? WoW Remix di Salmo Parla del gin lemon Ah, qui volevo puntualizzare una cosa Il gin lemon come il gin tonic Si può ancora fare in un bicchiere normale E non per forza in un mega bicchiere a calice da vino Quindi, ghiaccio 4 cl di gin Lemon Qui possiamo sbizzarrirci tra le varie marche che troviamo in commercio Diamo una leggera girata Ok, sempre per non andare a spezzare e rovinare troppo la bolla della bevanda solata Ho decorazione Spicchio di limone Spicchio di limone Ragazzi, mi raccomando Se guidate Non bevete E soprattutto bevete responsabilmente Foto di rito E anche il gin lemon è stato fatto Ciao E alla prossima puntata Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti